Il trapiantato di fegato in Italia si fa da tanti anni, ormai tutti i centri certamente si sono attrezzati producendo i libretti informativi con le istruzioni per l'uso. Questi libretti sono ovviamente concepiti per il paziente, quindi parlano un linguaggio semplice e vi si trovano tutte le informazioni necessarie per affrontare il percorso della vita del trapiantato, che è una vita destinata a essere lunga. Quindi si parla dell'importanza di prendere le medicine in maniera corretta, negli orari prescritti, per sempre, di proseguire attivamente la programmazione dei controlli medici, di avere un'alimentazione sana e variegata, di fare educazione fisica. Si declina quale possibile vaccino può essere fatto e quale invece non può essere fatto. In caso di viaggi in paesi non occidentali, non industrializzati, si danno delle informazioni sommarie circa la fattibilità del viaggio, la pericolosità. È ovvio che poi nella singola situazione bisogna contattare il centro per sapere se effettivamente ci si può recare in un paese, virgolette, del terzo mondo. Tutte queste informazioni si trovano e sono la base per riuscire ad avere una gestione autonoma della propria vita da trapiantato. Di fronte a un problema che non viene depistato adeguatamente dal libretto di informazioni si contatta il centro e il centro è in grado di rispondere.